Il reparto territoriale dei carabinieri di Nocera Inferiore questa mattina ha eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta della stessa Procura della Repubblica, con la quale si è disposto la custodia cautelare in carcere a carico di quattro persone. La misura cautelare non detentiva nei confronti di altre quattro persone, colpite dal divieto di Nimora nella regione Campania e nel comune di Castel San Giorgio, nonché l'obbligo di Nimora nel comune di Nocera Superiore. Gli arrestati sono riteniti a vario titolo responsabili di tentata e sorzione, detenzione e spaccio di sostanze e stupefacenti, detenzione e porto di armi comuni, da sparo e da guerra, ovvero un calasmico, commessi tra giugno 2021 e luglio 2022. L'operazione ha interessato Nocera Superiore, San Giuseppe Vesuviano, Castel San Giorgio, Scafati, Nocera Inferiore ed altri comuni del territorio nazionale. Il provvedimento cautelare configura l'esistenza di una piazza di spaccio a conduzione prevalentemente familiare, inizialmente presente sul territorio di Nicera Superiore, poi trasferita a Castel San Giorgio, presso l'abitazione di Trenta Gati, all'interno di un fabbricato del Civico XVII, dove all'epoca dei fatti risedevano alcuni degli odierni arrestati. La misura catelare rivela gravi indizi di colpevolezza acquisiti nell'ambito del procedimento penale, originato dall'arresto in flaganza di reato di un 36enne di Nocera Superiore, trovato in possesso di cocaina ed hashish. Soggetto del fulcro delle indagini è risultata una donna, 52enne di Nocera Inferiore, ma di fatto domiciliata tra Castel San Giorgio e Nocera Superiore, ed era ritenuta responsabile anche di un tentativo di estersione, finalizzata a recuperare una somma di neraro, provento dello spaccio, di cocaina e crack, condotto con il compagno.